Ciao ciao a tutti, io sono Emanuele Floris e sono il regista e l'autore di questo spettacolo Soldatino Enco, avvicino a me ho niente po' po' di meno che Bebibua Eccola Bebibua Perfetto, siamo tra i protagonisti di questo spettacolo Io sono molto molto cattivo e parla tutta così, e ho un debole per la ballerina ma soprattutto odio queste due E' vero, si, io sono Bebib e io sono Bua Lei è molto ribelle e parla sempre anche per lei, vero? Cosa dici di solito? Quello che mi pare, dico Fa veramente paura se ci andate da vicino, però invece lei è dolcissima, vero? Si è vero, io amo tanto i bambini E vedete quanto vi vuole bene? Invece lei, cosa dirà, Bua? Le piacciono i bambini? No, si! Io invece odio tutti quanti e soprattutto amo vivere nella sporciazia, cioè la sporcizia Tata! Corri di qua, di là, di là, sbagli via su e giù, muovi la testa e la gamba, gna, gna, gna Si sta muovendo! Poverina, vive solo quando si suona Magara vuole farti del male, hai capito? Si! Ma, un momento, il soldatino, e la difenderai? Si! Farò la guardia, se qualcuno ha da toccarla, io gli svitro l'indirazzo, lo strozzo con un gemato, lo metto sulla giostrina, gira, gira, gomitina E poi lo butto, tra i burpinari E finisci la dragon balla! Piuttosto, hai notizie dello scartoncino? No! Chi me l'avrà rubato? È la sua musica! Adesso canterà! Buah! Allora vi lascio soli! Io vado a fare il trenino Chiù, chiù, con Trilli girandola Chiù, chiù Chiù!